salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video facci soliti ringraziamenti di cuore a tutti coloro che mi osservano che commentano che esprimono dei giudizi ovviamente anche personali anche a coloro che non sono iscritti ringrazio di cuore se hanno visualizzato semplicemente i miei video esorto ed invito a fare l'iscrizione perché potete avere come in questo video delle informazioni veramente importanti utili per diciamo affrontare questo mondo tanto bello e affascinante ma molto spesso complicato ragazzi voglio pubblicare un video che sinceramente mi è successa una cosa ecco un video che è incentrato sulla rivendibilità mi è successo che cosa mi è successo che volevo vendere due penne stilografica e che sinceramente avrei voluto togliere perché per così dire non ho più un legame affettivo con la persona che mi ha regalato quelle penne e sai a volte le penne sono anche un ponte fra l'anima di chi te la regala e la tua perché se piacciono sia a te che al tuo amico vuol dire che la penna che ti viene regalata molto spesso il gusto della persona che te la va a comprare quindi richiama molto l'anima della persona che te la sta acquistando perché ricordiamo che i colori modelli delle penne stilografiche molto spesso come diceva un grande intenditore di penne stilografiche le penne richiamano l'anima della persona e quindi in quel momento anche in base all'umore che avete scegliete il colore scegliete il modello scegliete diciamo la penna vi accompagna nella scrittura ma nei pensieri proprio grazie a tutto ciò che tende a trasmettervi e quindi la persona che ti regala quella penna evidentemente è fatta secondo me in quel momento come la penna cioè è un mio pensiero che condivido con voi sarà sbagliato può essere anche sbagliato questo mio pensiero ma penso che sia così due penne che mi sono state regalate ho litigato con questa persona per questioni personali non mi sento più di averle a volte succede anche questo nella vita ho messo la foto su un sito e ho sbagliato a postare la foto di queste due penne perché c'erano a fianco ad esse una serie di penne che non avrei voluto vendere e molte di voi le conoscete quelle che io ho pubblicato in alcuni video e mi è successo che il sito mi ha chiamato dicendomi c'è stesso questi del sito dicendo vedi tu ne vuoi vendere due ma noi ne vediamo una decina mi ero accorto che una foto 7 8 che ne avevo pubblicate veramente ne aveva una decina ho chiesto scusa hanno detto non c'è problema togli questa immagine ma che cosa è successo in questi 5 10 minuti che io non mi ero accorto che tutti coloro avevano visualizzato le mie penne mi hanno bombardato nel giro di dopo una ventina di minuti per avere quelle penne che io non avevo più diciamo nell'inserzione ho dovuto togliere tutta l'inserzione e vi voglio pubblicare qui cioè vi voglio scrivere su questa carta quelle che sono state le maggiori richieste delle penne che avevo pubblicato erroneamente su quel sito ovviamente ho cancellato proprio diciamo il diciamo l'inserzione e mi ha meravigliato molto una quantità di messaggi di alcuni compratori del mondo dell'usato che non avevo idea avessero tutti un attaccamento particolare per due modelli di penne stilografiche parliamo dei marchi poi allora prima di presentarvi le due che mi hanno più richiesto allora la prima che è stata veramente quella che ha avuto una richiesta incredibile cioè per averle per acquistarle nel mondo dell'usato è stata pelican pelican non è un marchio che personalmente già mi piace ma non è quello che amo al 100% è un mio gusto personale ovviamente ci sono gli amanti delle pelican usano solo quelle e comunque sono penne eccellenti non posso dire altro però pelican a livello di mercato per la rivendibilità è stata quella che più mi ha meravigliato ho avuto più richiesta avrei creduto che montblanc che è al secondo posto perché anche montblanc mi hanno mi hanno bombardato era al primo posto però in realtà come possiamo vedere pelican e montblanc se la giocano perché prima e secondo posto comunque sono molto richieste poi vi faccio vedere quali modelli sono stati proprio quelli che veramente mi hanno tolto la testa che però ho chiesto scusa perché la foto era stata pubblicata erroneamente a seguire c'è stato leonardo leonardo ragazzi vabbè io penso che queste qualità prezzo sono veramente eccellenti eccellenti e lo dico sempre perché veramente scrivono molto bene hanno dei pennini molto particolari l'unica cosa che a me dispiace che io non trovo le penne con il pennino a 18 carati perché avrei preferito un pennino a 18 carati che leonardo purtroppo io non le trovo le fa 14 carati purtroppo questa è una scelta aziendale però io comunque vi dico che è un ottimo marchio quarto posto carandash carandash che ho una penna poi quando capiterà non voglio sbagliare neanche a scrivere stata richiesta abbastanza carandash quella che mi ha meravigliato un po di più è stata diciamo monte grappa al quinto posto e una persona soltanto mi ha chiesto visconti diciamo queste sono le penne un po più gettonate insomma più conosciute da un punto di vista commerciale ok e vi dico una cosa che due modelli veramente ragazzi ve lo devo indicare che poi è successo in quel momento magari i compratori in quel momento erano appassionati solo di quei due modelli o non lo so ma due modelli che proprio mi hanno tolto la testa nel vero senso della parola parliamoci chiaramente sono stati pelican questa qui la orange questa qua e questa qua della mont blanc del prince diciamo quella la che è stata fatta col pennino più piccolo con il converter 145 che è quella che ha la mi sembra la pecorella sul sul pennino vedete questo è un pennino 14 carati allora c'è stato in particolare una persona una vi dico solo questo che mi dispiace poveretto perché ha visto la penna che gli dice che mi diceva lui è un amante delle pelican e gli mancava proprio questa della collezione nonostante io gli ho detto vedi che comunque si può ancora trovare su alcuni siti raramente però c'era proprio questo che si era fissata a volere questa penna io vi dico una cosa se la trovate in giro compratela perché a parte da delle soddisfazioni incredibili questa qua però vedete se la volete rivendere un giorno c'è la rivendibilità da parte mia e poi vi dico la verità di quello che mi è successo poi magari non so se la riuscite a rivendere per quello che mi è successo ho avuto una richiesta di almeno almeno una decina di persone per questa qua mi hanno tolto la testa in particolare una signora e un signore che stava posto signore in particolare che insisteva che la voleva per forza veramente era caspito questo di farsi viaggio dall'america in italia per prendersi sta penna io non lo so perché io non so perché non va a vedere anche magari su altri siti se c'è non c'è e quant'altro ma l'aveva trovata su questa qui e voleva per forza questa penna qua mi dispiace ho chiesto scusa però in effetti ragazzi io questa penna per ora non ho intenzione di venderla questa qua però è una di quelle non è che sto facendo pubblicità al prodotto è una di quelle che voi potete facilmente smontare il pennino voi prendete una carta lo girate e cambiatelo con quello che più vi piace ha una facilità di pulizia incredibile perché si accede al fusto della penna da qui e veramente molto bella e molto ben fatta caricamento a pistone leggerissima e da nell'occhio quello che a me non piace è che il pennino è 14 carati perché io amo quelli 18 ma è un gusto personale raga questa penna è quella che più mi ha dato soddisfazione dal punto di vista della rivendibilità a seguire Mont Blanc questa qui con la 149 che ho ora non ve la faccio vedere perché sta di là e la questa qua molto 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 richiesta questa qua marrone ve la faccio vedere dal vivo vedete questa qua con la stellina gialla e poi ovviamente Leonardo non ne parliamo pure mi hanno chiesto alcuni della Leonardo e poi Carandascio Montegrappa e Visconti quello che a me ha meravigliato è Visconti perché Visconti ragazzi è una marca che secondo me fa delle penne a parte bellissime veramente bellissime e scrivono molto bene queste qui io sono stato molto meravigliato Montegrappa anche pure perché alla fine ha una come dire comunque un fascino Montegrappa è bella come penna io l'avrei dato più importanza questo video semplicemente fatto per farvi capire che cosa molto spesso persone acquistano le penne e poi hanno paura che in un giorno perdono i soldi in realtà non è così perché molto spesso potete rivenderle ci sono alcuni modelli come questa che a parte che questa non me la leverò neanche cioè me la porto dietro questa penna fino alla fine però ragazzi uno dei modelli che veramente vale la pena provare di acquistare come questa ho visto che c'è rivendibilità e secondo la mia esperienza un giorno potete vendere ma non dico che la rivendete al prezzo alto eh voglio dire magari quello mi voleva dare 200-300 euro ovviamente se lo sogna però per dire comunque c'è la richiesta di poter vendere il prodotto e anche questa quindi ragazzi io spero che i miei video siano utili ah scusate prima di concludere anche Etruria la stipula Etruria che sarebbe questa qui che addirittura c'era un signore che non conosceva il marchio io gli ho dato delucidazione ho detto di iscriversi al mio canale perché gli ho detto se ti vai a vedere il video questa qui ragazzi nonostante sia una penna poco conosciuta da alcuni non la conoscono in realtà è una penna che a me dà molte soddisfazioni è molto bella e secondo me ha una livrea incredibile è un bel pennone bello grosso ma è molto leggero è una penna veramente a me sa di antico ma vedete che è bella anche la resina cioè comunque questa ha anche avuto qualche richiestuccia diciamo tra se la giocava con Visconti quindi raga alla fine che cosa voglio dire scegliete le penne secondo il vostro gusto personale e spero che il video vi sia piaciuto e qualche penna come queste possono essere rivendute in futuro quindi fatevi i vostri conti e queste sono esperienze prettamente successe a me grazie al prossimo video